basta che non viene fuori qualche teschio o qualcosa perché sennò è un problema, chiamiamo i carabinieri. Ormai tanto va via tutto. E ormai di grosso non c'è qua più niente. No, faccio il giro. Sergio, portalo qua che facciamo il giro un'altra volta. Ma che pesa eh. Tanto c'è gli stivali che uno è bagnato e uno pesa di più quindi fa trazione. Sì, già sì eh. Taglielo al Paolo. Bravo. Sai che... Devo... no, in negozio non ne ho. Però se adesso che lei chiesta è facile che arriva. Aspetta, 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 tiralo indietro. Ci voleva il Marco. Ci voleva il Marco. Occhio all'Ianaconda, ragazzi. Il nostro carrista... Quella è l'ultima isola, quando cede... Proprio sotto non c'è niente. Quando cede fa un metro e mezzo sotto, blup. Quando ti sta filmando, Jacopo, non ti preoccupare. Eh, ma va. Qua c'è ancora la mia improtta di prima, eh, fino al ginocchio. Eh, ma non ti sei filmato però, eh. No, no, mi son filmato sì, era accesa. Anche. Anche. Adesso io mi metto sopra e tu tiri di colpo. No, aspetta, non tirare. Mettilo giù di punta però. Dalla parte corta. Prova. Asteria mi corta via davvero, figaro. No, scappa via. Sì, va bene, ma ascoltami, questa è tutta porcheria, eh, non è che ormai il grosso l'abbiamo fatto. Andiamo avanti, andiamo in su di qua. Sì, ma ragazzi, se hai mai il testo, a me ne prendi qua. Ma non ti manda, ma non ti manda, ma non ti manda. Non ti manda, ma non ti manda. 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 Non ti manda.